Buongiorno a tutti, allora magari utilizzo questi dieci minuti per fare la seguente cosa, la prima per dire come Enel abbiamo capito, a nostro avviso ovviamente, dovrà essere il nostro prossimo futuro da un punto di vista energetico e secondo vedendo nell'ambito di quello che abbiamo capito cosa stiamo facendo. Allora, in estrema sintesi, se volete, l'idea che ci siamo fatti è che dobbiamo fare quattro cose in Italia. La prima cosa è aumentare la capacità rinnovabile, il gas sarà indispensabile, nessuno lo mette in dubbio, tra l'altro poi sicuramente molto meglio di me sepprono venire e vi racconterà quello che stiamo vivendo, però sicuramente questo è un paese che deve sviluppare rinnovabili. Lo possiamo fare, senz'altro siamo reduci da un periodo abbastanza positivo, fate conto che se noi andiamo a vedere i dati 21-22, noi siamo passati a un installato di circa 1,3 giga a circa 3 giga, quindi stiamo crescendo. La caratteristica principale, è stata prima citata, è che i più bravi in questa attività siamo noi cittadini, fate conto che la grandissima parte di questa capacità è di piccoli impianti. Vi do un numero, noi l'anno scorso nel 22 abbiamo installato qualcosa come 220-210 mila nuovi impianti, è un numero enorme, fate conto che è un numero così enorme che oggi ci porta a dire che sulla rete di distribuzione ci sono oltre un milione e cento, dico un milione e cento di piccoli produttori. E tra l'altro è un trend molto positivo, ci aspettiamo che nel 2022 questa cifra possa rasentare i 300 mila, 320 mila impianti. Quindi la prima attività che dobbiamo fare è costruire rinnovabili, va bene i piccoli, siamo bravi, però dovremo avere una spinta maggiore sui grandi. Il secondo aspetto, ve l'ho detto tra le righe in quello che commentavo prima, è che evidentemente se noi non ci dotiamo di una rete molto smart, quindi in grado di fare hosting, di recepire questi impianti, è evidente che lo sforzo è vano. Come Enel stiamo facendo dei grandissimi investimenti sulla rete, faccio un passo indietro. Oggi come italiani, ancora prima che come Enel, dobbiamo essere consapevoli che la nostra rete di distribuzione è una delle più avanzate al mondo, forse la più avanzata. Noi continueremo a investire, vi do un numero per raccontarvi. Io mi occupo di Enel in Italia, sono amministratore del reato di Enel in Italia. Noi investiremo nei prossimi tre anni poco meno di 18 miliardi, che in questi momenti i numeri sembrano essere bruscolini, ma credetemi, i bruscolini non sono. Rappresentano circa il 50% degli investimenti che Enel sta facendo. E come vi accennavo, la metà di questi, circa 9 miliardi, saranno destinate alla rete. Perché tutto ciò funziona se c'è una rete intelligente, una rete che è in grado di ospitare impianti, una rete in grado di farli funzionare. Tra l'altro, una rete che deve tener conto di alcuni eventi che noi ogni giorno riscontriamo, che sono quelli che vengono definiti in gergo gli eventi estremi, meteo estremi. Ogni anno, mediamente, ahimè, questi aumentano nel 20%. L'anno scorso abbiamo avuto circa 150%. Quindi è evidente che la rete deve crescere sia da un punto di vista di essere in grado di ospitare nuovi impianti, ma anche nella sua resilienza. Il terzo aspetto riguarda l'elettrificazione. Cioè, noi abbiamo imparato che ribadisco, fermo restando, la necessità dell'importante del gas, e noi oggi in Italia facciamo alcune attività che potremmo tranquillamente fare utilizzando altre forme di energia. Ad esempio, l'elettricità. Immaginate le pompe di calore per far caldo nelle nostre case. Non è scritto da nessuna parte che noi dobbiamo fare caldo nelle nostre case, nei nostri uffici bruciando gas, ma possiamo tranquillamente utilizzando pompe di calore. Tra l'altro, tecnologia sulla quale siamo all'avanguardia. Anche qui vi do un dato. In modo che ogni tanto vi do un flash. Noi, come sistema Italia, abbiamo installato 28.000 pompe di calore nel 2022. Già nel 2024 questo numero dovrebbe essere raddoppiato. Ed infine, il quarto punto, che è la vera sfida. Perché mentre su questi tre punti, più o meno, ognuno di noi ha consapevolezza, il quarto non lo sfida che questo paese deve giocare. Cioè, entrare nella filiera. Cosa significa entrare nella filiera? Che noi non dobbiamo fare, come paese, l'errore di passare da una dipendenza energetica, ormai l'abbiamo conosciuta, l'abbiamo imparata, la russa, gli algerini, eccetera, da una dipendenza tecnologica. Anche qui un dato. Oggi il solare, il fotovoltaico, arriva in Europa per un 80% circa di tecnologia che arriva dall'Oriente. È evidente che questa cosa non ce la possiamo permettere. È possibile sviluppare una nuova filiera energetica nel nostro paese? La risposta è sì. E quindi vado al secondo aspetto del racconto che vi voglio fare. Com'è nel cosa stiamo facendo? Tra l'altro questo è un'onore per Enel importantissimo. Enel, probabilmente voi sapete, è sempre stato un operatore elettrico. Quindi realizza reti, realizza impianti, ovviamente offre ai propri clienti l'energia, ma un ruolo importante, fatemi dire, manufatturiero di queste dimensioni non si è mai visto. L'abbiamo iniziato, era citato primo, con la fabbrica di Catania. Ne avete sentito parlare tantissimo, però scusate, mi spendo qualche parola. Allora, oggi la fabbrica di Catania rappresenta il massimo della produzione di pannelli in Europa. Addirittura non solo le più grandi, ma è più grande di tutta la somma delle piccole, fatemi dire, fabbrichette che non abbiamo in Europa. Oggi questa fabbrica genera circa 200 megawatt di potenza. Con quest'estate arriveremo a farne 400. A settembre 24, quindi stiamo parlando di un tempo veramente breve, saranno 3 giga. Tra l'altro con una caratteristica. Oltre a caratteristiche, un impatto economico importante, due numeri anche qui, stiamo parlando di un investimento di circa 600 milioni, è un numero di addetti, un milaio di addetti più un altro migliaio di indotto, con una caratteristica importante che è quella della tecnologia. Cioè spesso ci siamo detti che riuscire ad essere competitivi per il mondo rispetto al basso costo orientale, l'unica chance è quella di lavorare sulla qualità. Tenete presente che oltre ai numeri importanti, i 3 gigawatt e quindi circa 15 volte rispetto all'attuale produzione di Trisanna a Catania, stiamo parlando di una tecnologia che oggi, mentre siamo qui e vi parlo, è la tecnologia più efficiente al mondo. Cioè quella tecnologia che è in grado di convertire l'energia solare, l'energia elettrica, in una più grande percentuale. Siamo così convinti di questo progetto, siamo così entusiasti, e tra l'altro abbiamo ricevuto, come ci immaginavamo, un placet così importante in primis nel nostro paese che stiamo lavorando per ipotizzare una seconda fabbrica di queste dimensioni. Parlando del sud, ci spostiamo, vi racconto un altro paio di progetti importanti. Siamo ai limiti del tempo. Come? Siamo ai limiti del tempo. Io purtroppo... Ai limiti del tempo però ho due progetti importanti che voglio raccontare. Vengono fatti a Brindisi, dove c'è l'attuale nostra centrale a carbone, e qui stiamo scadando la filiera, stiamo realizzando un impianto per la produzione di moduli. Il modulo cos'è? Lo dico in maniera semplice. È questo oggetto che contiene la cella fotovoltaica. Lo stiamo facendo in plastica, in plastica riciclata, col vantaggio, uno, di avere plastica riciclata, due, di non utilizzare il vetro e quindi avere moduli più leggeri. Ed infine, sempre qui su Brindisi, stiamo realizzando una fabbrica per realizzare paleoliche innovative, cioè paleoliche che utilizzano non la plastica così come è noto, o i componenti noti, ma un tessuto particolare. Perché vi racconto questo? E sono costretto a chiudere in virtù del tempo. Perché se lo fa Enel lo può fare questo Paese. Quindi io sono convinto che questo Paese possa, e debba più che possa, in questo momento entrare nella filiera per cercare di svincolarsi sempre più da questa dipendenza che oggi è energetica e non vorrei mai domani fosse tecnologica. Grazie.